Buongiorno a tutti, abbiamo recuperato quella domanda mancante, Martina prima aveva fatto una domanda ma non era quella giusta, insomma ne è valsa la pena, io e Filippo l'abbiamo già sentita la domanda da Martina, provo a essere al livello tuo Martina e riraccontare questa domanda, siccome lei dice, io e noi fan ti abbiamo fatto tantissime domande nel corso degli anni, abbiamo imparato a conoscerti attraverso le risposte che hai dato e attraverso anche le canzoni che ovviamente raccontano parti di te, allora lei dice, questa volta fatte la tu una domanda e falla alla tua anima, è complicato, vai vai, ti voglio bene Martina no, spazio, questa domanda è molto bella, allora, se dovessi farmi una domanda, sei soddisfatto di quello che sei oggi? Cioè mi chiederei, spesso me lo chiedo no? Penso che tutte le persone se lo chiedono, è assurdo no? Non voglio essere malinconico o pesante, la mia risposta è sempre no, ti spiego il perché, non è che io non sia soddisfatto di ciò che sono o di ciò che ho fatto finora, perché ci metto tutto quello che ho, tutto il tempo, tutta l'emotività, cerco di metterci anche tutto lo studio possibile, però dall'altra parte ho questo tarlo nella testa che dice che posso fare di più, posso raccontare di più, posso dire qualcosa di nuovo, quindi in realtà c'è ancora tanto da raccontare, ancora tanto da dimostrare e con i piedi ben saldati a terra lo farò e lo faremo insieme speriamo.